Loro punti deboli, poi ripeto che abbiamo lavorato in maniera differente. Dai Dio! No, però siamo partiti a quattro. Sì, è vero, è vero. Siamo partiti a quattro però con movimenti diversi, in parte anche loro è stato bravista. Sì, perché loro giocando con il trequartista avevano superiorità lì in mezzo e quindi dovevano sempre farvi dentro il centrocampista per avere più copertura. Però la difesa, non so, si giocava a destra, ma da parte lì poi c'è stato un momento che è diventato un 4-4-2. Da 4-3-3. Sì, è partito da 4-3-3 e poi diventato da 4-4-2. Però devo dire, senza snaturare quelle idee che il Parma comincia a far vedere qualcosa di diverso e anche il fatto di averla preparata in misura dell'avversario che aveva delle qualità e poi si no, non mi dire, che ho chiamato.